Le elite globaliste vogliono eliminare miliardi di persone. Saremo una di quelle? In tutto il mondo, uomini e donne si stanno rendendo conto dell'allarmante verità che i governi non servono nessun dio né tantomeno il popolo. Ci sono delle verità che i mainstream non ci diranno mai. La verità è ciò per cui viviamo. E' come l'aria che respiriamo, che hanno inquinato con le loro menzogne. E la verità di ciò che l'umanità sta affrontando è terrificante. Le elite globaliste sono determinate ad usare il potere dei governi nazionali per effettuare l'eliminazione mondiale degli esseri umani. Si sono impegnati a ridurre la popolazione mondiale da 8 miliardi di persone ad un solo miliardo. Secondo i loro piani, 7 miliardi se ne devono andare. Saremo noi e i nostri figli tra questi? Potreste pensare che non sia vero, ma il limite del miliardo non è un segreto. Ascoltate le parole di Dennis Beatles, uno degli autori dei limiti della crescita, il manifesto del 1972 per lo spopolamento globale sponsorizzato dal Club di Roma. Avremo un miliardo di persone. Dobbiamo tornare indietro. Questo è ciò che ci aspetta. L'uomo che ha pronunciato queste parole sa esattamente cosa hanno in serbo per noi. Il Club di Roma è un gruppo globalista d'elite fondato nel 1968 e impegnato a garantire che i 7 miliardi di persone, come tutti noi, non abbiano un futuro. Ecco cosa prevede Meadows per noi e le nostre famiglie. Carestie, epidemie, rivoluzioni, dittature, guerre, un tenore di vita più basso. Lo scienziato radicale del clima Hans Schoenhuber, nominato alla Pontificia Accademia delle Scienze nel 2014, ha fatto eco al livello di un miliardo. La capacità di carico del pianeta, ha detto, potrebbe essere inferiore ad un miliardo di persone. Quasi un secolo fa, Herbert George Wells, uno dei primi sostenitori di uno stato eugenetico globalista, lo ha espresso crudamente. Quegli sciami di neri, bruni, bianchi, sporchi e gialli dovranno andarsene. Oggi evitano quel linguaggio, ma il loro obiettivo è immutato. Lo faranno costringendo e inducendo con vergogna uomini e donne ad avere meno figli e cercheranno di uccidere quelli che ritengono eccedenti rispetto al fabbisogno. Dai tempi di Herbert George Wells hanno ucciso più di un miliardo di bambini nell'omicidio di massa più orrendo della storia umana. Poiché la popolazione mondiale continua a crescere, se vogliono raggiungere il loro obiettivo hanno un disperato bisogno di aumentare le uccisioni. Ma i globalisti vedono solo un surplus di popolazione da abbattere e centinaia di milioni di dollari da guadagnare. La vista delle famiglie numerose e dei bambini piccoli lascia i loro cuori freddi. C'è bisogno del nostro supporto per diffondere queste informazioni prima che sia troppo tardi. La posta in gioco per l'umanità sofferente non è mai stata così alta. Dobbiamo far emergere la verità prima che sia troppo tardi per miliardi di persone innocenti. Poiché non ci possono essere dubbi, i globalisti sono pronti a uccidere. Nel 2020 si sono rivelati come mai prima d'ora in tutto il mondo. Ci hanno imprigionati nelle nostre case. Hanno chiuso le chiese. Hanno imposto un prodotto mortale contaminato anche per l'aborto. Hanno diviso le famiglie. Hanno distrutto posti di lavoro e ci hanno reso più poveri. Il loro obiettivo è un mondo spopolato, impoverito e schiavizzato. Nessuna persona per bene vuole vedere un futuro di questo tipo. Ma i globalisti hanno sempre fatto affidamento sui media mainstream per assicurarsi che la gente comune non sospettasse nemmeno la portata o la malvagità del loro malefico piano. Ma qualcosa è cambiato. I media mainstream hanno perso il monopolio sull'informazione. I liberi ricercatori stanno divulgando la verità a milioni di persone in tutto il mondo per raccontare quello che i media dell'establishment cercano disperatamente di nascondere. Forniscono informazioni che i politici non vogliono che abbiamo. Siamo stati e siamo derisi come teorici della cospirazione. Ma siamo sempre stati rivendicati perché abbiamo sempre detto la verità. Non ci arrenderemo e non ci tireremo mai indietro. Nonostante le forze del male ricorrano sempre più alla censura. È l'unica cosa che permette loro di guadagnare un po' più di tempo. Questo è il motivo del perché oggi siamo minacciati dalla censura come mai prima d'ora. Quando il World Economic Forum globalista si è riunito ad Evo lo scorso gennaio, la priorità per le persone più potenti del mondo era come impedire a persone come noi di condividere la verità. La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha detto ai suoi collaboratori del World Economic Forum che la preoccupazione principale è la disinformazione. Significa che temono la verità e quelli che la dicono più di ogni altra cosa. Ma state sereni, amici ed amiche, e ricordate che c'è sempre bisogno del nostro consenso e per fare questo è necessario non cedere, meglio non credere, nelle false paure che diffondono ed avere un pensiero positivo. Sempre.